Non sfiorarmi con due le dita in onda! Non ringraziarmi, è posto così! Tempsay apre il fuoco con un singolare intento omicida. Io mi sono rianimato da solo. Volevo vedere se la mia sorte interessava a qualcuno. A te di niente. E eccomi qua, amici! Di nuovo con voi! Almeno io ci tengo a voi. Spiriti saggi, vi invoco! Donatemi munizioni! Tra poco mi serviranno altri amici metallici! Non sono mai stato un uomo di fede, perché... Dimmi, credi che sia questo l'oltretomba? Non ne sono certo. Per molti spiriti, sembra essere uno spazio tra il mondo dei vivi e quello che viene dopo. Non guardo noi... Meglio facciamo un uomo di fede, siamo ancora da... Non mi fai pena, mezza sega! Ehi, non sono stato io a sbatterti in galera! È vero, non ho ancora finito! Sì, sì, davvero spaventoso! Sassidane! Oh, brutto errore, Nicolai! No, niente, libera il naso come un'esperienza extra-cormore! Punti dappi! Mi comprerò qualcosa di speciale per fare punti più grossi! Sei! Affrontami! Io, Pacheo, mi porco il fuoco! Mi sfido a prenderlo! Io vivo e tu no! Fine della discussione! Cal pensere! La tua morte rifristirà il mio onore. Questa è la via del Bushido. Ho esaurito le riserve Nel momento peggiore. Ai demoni impartirò Un corso accelerato di morte rapida. I protoplasmi sono Un grande traguardo scientifico, ma... C'è ancora da lavorare sul sapore. Il cuore di Nicolai scalpita come un orso in amore! Un'arma indecente. Perché cassa magica? Perché? Distanza e posizione privilegiata sono lussi che qui non possediamo. Anche i calabroni sono piccoli. Ma uniti in uno sciame possono sopraffare qualsiasi avversario. È proprio l'arma che cercavo! State tranquilli! Adesso Nicolai risponde... I cani dell'inferno sono qui per sfamarsi! Non sono la tua preda! Cane demoniaco! Sparesci subito dalla mia pista! Spare gli spiriti! Finalmente un'arma degna! Usa bello! Posso lamentarvi che maimstangue è troppo prezioso da spazere? Respiro ancora e posso ancora sparare! Perdona il disturbo, Dempsey. So che hai avuto il migliore da fare. Munizioni al massimo! Ti accolgo con onore mio stimato fucile d'assalto. Tutto a posto, Doc. Ti vedo pallidù.